La Salernitana va in serie B, va matematicamente in serie B, perché la Salernitana ha perso contro il Frosinone proprio ieri 26 aprile 2024, Frosinone e Salernitana infatti è terminata 3 a 0. Il Frosinone ha avuto la media sulla Salernitana che ha perso e matematicamente parlando va direttamente in serie B, va a retrocedere. Una retrocessione ovviamente non buta, non sperata per la Salernitana che però diciamo quindi che viene ad essere travolta da questa straordinaria vittoria che c'è stata da parte del Frosinone, la sconfitta invece che la Salernitana va a riportare è una sconfitta emprematica, palese, raggianti ed evidenti. Peccato per la Salernitana, vi ringrazio per la scuola e per il video che rimane qua, dunque Salernitana in serie B.